riempie il nostro cuore di ammirazione e di fiducia. Di fronte alla santità della mia Adelisabetta Reazzi, fondatrice dell'Istituto Maestro e Pietro Adolorata, alla quale voi vi siete sempre ispirate, spesso ci domandiamo, noi cosa possiamo fare? La risposta a questo grande interrogativo ci viene suggerito unilmente da voi. Dobbiamo limitare la Settura Cristi con l'aiuto e l'intercessione della mia Adelisabetta Reazzi, come voi, sorelle, avete fatto e continuato a fare, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, seguendo la volontà di Dio. La santità è vera e viva, l'esperanza è carità operosa, è un cammino che dura tutta la vita, come voi, cari sorelle, continuate ad insegnarci e a ricordarci con la vostra preziosa e discreta presenza, che non consente soste né in giù. Per questo siamo qui riuniti nella gioia per ringraziare il Signore e nei tanti benefici che vi ha concesso in questi 50 e 60 anni di vita consagrata per il Suo Regno. Per la vostra fedeltà, per l'amore che avete saputo domare e per ripetervi l'augurio che Gesù rivolse ai Suoi discepoli, che la vostra gioia sia perfetta. Ci disponiamo alla preghiera del Rosario di unione di cuori con tutte le comunità delle maestre indietro che si trovano nelle varie parti del mondo e anche con tutti i componenti del movimento dei laici e mediati. Per intercessione di Maria Santissima e della Beata Elisabetta, chiediamo al Signore particolari benedizioni per il nostro Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto XVI, per il nostro Vescovo Francesco e tutti i pastori delle Diocesi dove l'Istituto opera, per i sacerdoti, per la Chiesa, per il nostro Istituto e in particolare per l'amato generale Madre Carla ed il suo Consiglio. Uniamo a queste intenzioni la preghiera per tutti i giovani e le loro famiglie che il Signore ci ha affidato e ci affida affinché attraverso la nostra missione e per la Lua possano incontrare Cristo per la luce del mondo e con Lui trovino senso pieno alla loro esistenza. Preghiamo per tutte le necessità del mondo per la pace, la giustizia, la fratellanza e per ogni desiderio e l'intenzione che ci portiamo nel cuore. In ogni decina la prima parte del Padre Nostro Ave Maria e Gloria sarà pregata da una solista in lingua diversa. Nella seconda parte rispondiamo come assemblea in italiano. Primo mistero Mistero della vocazione La scelta di Maria se accettare la proposta di Dio e quella di ogni donna del mondo chiamata a portare la tua sua vita spesso in mezzo a mille difficoltà e ostacoli. O Maria piena di grazia il Signore che ti ha rivestita di bellezza scenda nella nostra vita regalaci la tua disponibilità nel cambiare prospettiva per accogliere la volontà di Dio che lo Spirito ci renda fecondi nei modi che lo vorrà. La prima decina è pregata in inglese preghiamo per la missione della Luiziana fondata nel 1947 e che lo vorrà. Il nostro Our Father who art in Heaven hallo be thy name thy kingdom come thy well be done un'argo is is in Heaven Amen Grazie a tutti i nostri amici. 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 Secondo mistero, il mistero della responsabilità. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.